Sinergie 2021 È un evento che non ci delude mai e quale partecipiamo sempre con grande piacere e poi si respira tanta aria di voglia di partire, di cominciare a fare però con occhi un po' più grandi che guardano un po' a tutto tondo non soltanto a quello che è sempre stato un po' l'approccio verso il settore immobiliare italiano specifico ma un approccio anche più internazionale se vogliamo acquisendo anche competenze da altri settori grazie soprattutto anche agli interventi che abbiamo avuto oggi da outsider del settore immobiliare che però hanno portato molto valore. Hashtag ripartenza era un po' il claim di questo evento come questo hashtag è sinergico con la tua azienda? Ma allora diciamo che la ripartenza c'è perché noi nasciamo come piccola start up che non è finita mai e nella fattispecie un anno e mezzo fa essendo entrati in sinergia con tutta la realtà di Idealista, Casa It e tante altre aziende che operano in Italia, in Spagna, in Portogallo con cui collaboriamo appunto adesso a livello internazionale ci fa ripartire proprio con una voglia di fare di più, una voglia di creare sempre più valore e tecnologia per tutti quelli che sono gli agenti immobiliari non solo italiani. Possiamo dire che Gessim sarà con noi anche l'anno prossimo a Sinergia 2022? Assolutamente sì, con grandissimo piacere, non mancheremo assolutamente l'evento più importante dell'anno.